Musica Ciao ragazzi, oggi siamo su Cat Mario perché dopo l'ultimo video dedicato a Give Up, un gioco impossible ci hanno consigliato Cat Mario C'è una musichetta C'è una musichetta alquanto... fastidiosa Inizio io? Vai No Fede dai fammi riprovare Abbiamo due vite Nooo Una vita Vabbè finita la vita vai tu Ah lì c'è un coso che mi fa... ok Questo ti fa... Oh fallo cadere 80 0 0 Attenta qua salta Ah Perfetto Qua devi saltare perché qui c'è un coso Nooo Io non so saltare Devi a te Devi saltare molto Come meno uno Vai Sì Contatore tipo Give Up Ma porca la manca vede Dovrebbe essere semplice è a livello 1 C'è il contatore nel senso... Di quante morti vai Aspetta attenta qua... Qua tipo sale uno... No casca uno ecco Attenta Ecco lì Il checkpoint No Siamo arrivati al primo checkpoint ok Nooo Vabbè dai c'è il checkpoint Dai fammi prendere O tre volte per uno No qua salta ragà Cosa fa? Secondo me qua salta qualcosa No Oh No Vedi dai risali Sì Non ho capito Vede devi suicidarti Suicidati Suicidati Ma mi hanno indotto al suicidio Nooo Ecco E suicidati almeno Nooo Tududuuu Dio Ma porca miseria Ma vede ma impossibile Ma vede ma è impossibile Dio primo è impossibile arrivare li senso... A futuro come si fa? Ma vabbè ci... ora salta su quel coso verde porca miseria no no quindi no vedi vedi guarda che c'è qui ce la faremo a superare il primo livello adesso c'è qui sopra c'è la cosetta quindi devi saltare da quello sotto da qui fede fede vai dritta senza saltare attenta qua la notte pensavo che ti sbuccava una cosa da quello verde quanti erano quattro da quella sotto da quella sotto devi saltare di cadere giù guarda come fa flutua ok adesso dritta ferma da dove cadono? arriva tipo al terzo uno per uno saline da questo torna indietro da torna indietro adesso ferma ferma li salti piano piano salta l'ora no perfetto vai vai via guarda i stronzi no cazzo perché? non ci può finire forse devo devo sorpassare la hai visto che se salto passa quella cosa beh salta falla passare prima no che cazzo perché non è saltato subito? che prima non passava secondo me bisogna far passare quella e passare oltre però poi ahhh passiamo oltre così facciamo cadere quel cosetto cioè facciamo avanti e indietro di modo che qualcosa cade e noi possiamo prendere la bandiera e tornare porca cioè nel senso dobbiamo fare in modo di andare prima dall'altra parte fare la tasca e poi via la bandiera salta tanto quindi salta poco più avanti pochissimo oddio Fede adesso devi non devi prenderla come si fa a non prenderla? che cazzo di salto devi fare? no no Fede non ce la vedremo mai si devi proprio saltare proprio al limite ok adesso mettiti proprio alla fine no mettiti proprio alla fine qui no la fine è di là devo saltare dopo no? ecco brava l'ho saltato non l'ho saltato non va a rincorsa come i giochi quelli normali quelli che hanno un senso e quindi vedi? come si fa? si serve la rincorsa no no questo sarà un modo io ho capito si 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 no 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 ragà ci sarevo fatta adesso mi sono rotto il cazzo perché non si può andare indietro in tutti i giochi si può andare indietro quindi io lo salto e poi me ne ritorno subito attenta ahhh vai vai ah io mi aspetto di tutto no no entro dentro quella cavolo di porta secondo me si è stata talmente traumatizzata ma fu oddio scusa non lo faccio più è sporadomia mi fai schifo guardatevi sotto a sopra oh non lo prende è cattivo oddio e ora come fai? ma mi stanno appiatto il culo si ma questo non lo non lo devi prendere ok ok piano 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 sali su quello su quello più rialzato ok che cazzo fai? no io non ci posso credere si ok no porca edo stai calma è lui che si muove male guarda quanto è stupida guarda quanto è stupida guarda che non devi andare dritto si muove male si vabbè complimenti dai io non ho fatto niente ferma sai io come si fa scusa tutte le monetine non pide niente no 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 attento attento aspetta oddio arriva oddio no un gigante cat mario no era un pedo bear bianco che era successo qui? che era successo? qua ti scappa il coso da da sotto salta basta e salti era lì che usciva è lì è pedo bear pedo bear lei come faccio? come faccio? lo devi cacchio lo devi salta indietro poi vai salta come per dire non hai via di scavo ancora ormai sei morto non puoi provare vai ok attento adesso no non ci posso credere l'ho fatto ma c'è lì c'è stata una cosa che si sgredola ma che cazzo? ma c'è point questo non è come give up questo è peggio cazzo si ho capito fede ma per cose stupide che è successo? lo so ma perché non hai fatto quello che abbiamo sempre fatto per risultare? avrei saltato se vuoi da dopo oddio no ecco lo sapevo oddio ricordati che c'è qualcosa lì sopra si ho capito ma no non ci posso fare adesso io so so vai scappa no ma non mi saltare ma non sei te ma non mi saltare ma non ci riprovi no devi saltare da qui devi saltare dritto per dritto vai a finire qui però vai indietro ci sono saltati indietro non devi saltare qui devi saltare qua ok adesso dal centro salta attenta vai piano fede porca miseria cerce il point cerce cazzo ah 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 si ok adesso da qua non possiamo temere non ok abbiamo capito si cascano 20 20 mattoni ok oddio quindi c'ho paura è troppo vuoto esatto oddio no secondo me bene federica complimenti abbiamo fatto aumentare le palle io lo sapevo devo sapere dobbiamo andare sopra o sotto dove andiamo di là non ce lo posso fare ok dobbiamo andare sotto dobbiamo andare di là adesso attenta perché quelli scendono scendono velocemente vai no è difficile è che sta parola l'ultima l'ultima cazzo non ho capito cazzo ti prego ti prego ti prego si c'ho paura c'ho paura adesso che dici facciamo normale no no ah ok quale gioia ok ho capito devi farlo abbassare del tutto ah vai ragazzi ragazzi ci abbiamo fatto dovremmo fare il terzo capitolo ah il terzo il terzo livello di cat mario però lo faremo più in là perché così almeno ci riprendiamo un pochino non è come give up cioè give up era l'ansia quella esatto faccio questo ti mette la robbia proprio che a noi ci fa male dentro grazie comunque per avercelo consigliato se volete lasciateci un commento così magari anche se l'avete provato scriveteci voi fino a che punto siete arrivati so che ci sono anche cat mario 2 e tanti altri quindi magari se riusciamo a finire cat mario 1 faremo anche gli altri ma per quanto c'è simpatico faremo anche il 2 comunque noi ci rivediamo nel prossimo video quindi stay tond tond tondo 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 mi raccolano tutti i tondi ciao Ciao! Grazie!